signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale nelle scorse settimane abbiamo cominciato a parlare degli aspetti fisici del world building e della creazione del mondo prima di passare oltre vedere gli aspetti culturali è meglio fare un esempio concreto per dimostrare tutto quello di cui abbiamo parlato nell'ultimo mese e per farlo riprendiamo la rubrica del d20 system perché come esempio che tutti possono conoscere prenderemo proprio la meccanica planare di dungeons and dragon che è l'ammiraglia del d20 system è un gioco a cui tutti prima o poi hanno giocato e fondamentalmente quello più diffuso al mondo quindi sicuramente qualcosa già ne conoscete come sempre faremo riferimento all srd 3.x ma in realtà in questo caso l'edizione dovrebbe essere indifferente perché tranne nelle edizioni proprio più vecchie l'original dnd dell'osr la meccanica planare il funzionamento dei piani è rimasto pressoché immutato se non con minime variazioni in realtà ininfluente sul discorso che stiamo andando a fare la grande ruota è comunque un argomento incredibilmente vasto e quindi non parleremo di tutto in questo video non servirebbe neanche questa settimana ci concentriamo sui piani interni e sul più famoso dei piani interni il piano materiale quello su cui molto probabilmente sta avvenendo la vostra campagna o almeno da lì partirà prima di spingersi oltre cominciamo subito con rispondere alla domanda contemporaneamente più semplice e più complessa di tutte che cos'è un piano nella cosmologia di dungeons and dragon un piano è un fenomeno di realtà definito e contenuto immaginatelo come se fosse una bolla di sapone con all'interno un intero universo di realtà anche se ciò che si considera come realtà in alcuni piani diciamo che ci sono dei pareri discordanti ognuna di queste bolle può contenere al suo interno altre bolle più piccole che a loro volta possono contenere altre bolle ancora non c'è relazione tra diciamo la dimensione esterna la dimensione interna di uno dei piani perché i piani al loro interno molto spesso sono letteralmente infiniti anche se all'interno hanno dimensioni per quanto smisurate finite e definite queste bolle ruotano tutte in una struttura di cerchi concentrici in cui le bolle più materiali diciamo quelle più fisiche quelle più pesanti occupano la sessione centrale e poi man mano le bolle si fanno sempre più indefinite man mano che ci si allarga quelle esterne più che dalla fisica sono regolate dalla morale dagli allineamenti e sono la follia incarnata e questo la rende incredibilmente divertenti ma non ne parleremo questa settimana per via della sua struttura a cerchi concentrici l'universo o per meglio dire il multiverso di Dungeons & Dragons è chiamato la grande ruota quella che state vedendo adesso è una sua rappresentazione schematica in realtà è molto più complessa di così ma diciamo è per iniziare questo può bastare come detto al centro della grande ruota ci sono i piani interni quelli governati dalle forze materiali e appunto il più interno dei piani interni è il primo piano materiale il piano materiale è il mondo così come noi lo conosciamo in cui le forze elementali e le forze morali sono grossomodo in equilibrio ed è quindi possibile trovare oceani di acqua, montagne di terra, atmosfere di aria è possibile trovare persone buone, persone malvagie, persone neutrali fondamentalmente è il mondo normale quello in cui i mortali vivono le loro insignificanti esistenze beatamente ignari della follia che incombe su di loro molto probabilmente è qui che risiede la vostra ambientazione insieme a tutti gli altri mondi di gioco degli altri master più i mondi di gioco ufficiali Toril, Greyhawk, chi più ne ha che le metta a seconda della volontà del master o della specifica edizione i vari mondi di gioco sono rappresentati o come effettivamente dei pianeti che ruotano intorno a stelle diverse in una via lattea comunque in una galassia fantastica o come dei mondi all'interno di sfere di cristallo che sono immerse in un vapore di flogisto o come infiniti strati di piani uno sopra l'altro che vanno a formare una sorta di infinita quantità di universi paralleli ogni piano materiale proietta un'ombra attraverso i piani che è appunto il suo piano delle ombre il piano delle ombre è una distesa grigia, desolata e prima di vita che coesiste coincidentalmente con il piano materiale ogni punto del piano materiale ha un suo punto corrispondente nel piano delle ombre il piano delle ombre però ha una natura molto più effimera del piano materiale molto meno legata alle forze elementali ed è quindi molto più facile per i mortali manipolarlo per fare un esempio di come il world building vada a influenzare il gioco vero e proprio anche a livello di regole pensate a quanti incantesimi ci sono che manipolano il piano delle ombre da tutti i vari incantesimi della scuola di illusione ombra di un'invocazione, ombra di un'evocazione che fondamentalmente vanno a estrarre e manipolare sostanza dell'ombra ma anche cose molto più semplici come la capacità di classe dell'ombra danzante di salto d'ombra o l'incantesimo di camminare nelle ombre che permette di usare il piano nelle ombre per spostarsi molto velocemente ci sono così tanti incantesimi e così tante capacità di classe per manipolare il piano nelle ombre proprio perché è il piano più vicino e più legato al piano materiale che è quello da cui hanno origine gli avventurieri di conseguenza manipolare quel piano richiede molta meno fatica, molto meno conoscenza e in regole livelli dell'incantatore e livelli di incantesimo molto più bassi degli incantesimi che servono per esempio per evocare sostanze da altri piani attorno al piano materiale, il suo piano delle ombre ruotano i quattro piani elementali e i due piani energetici questi sono i sei reami da cui hanno origine gli elementi e le forze che mischiando si formano e governano il piano materiale hanno tutti delle caratteristiche comuni la principale è quella di essere formato da un solo elemento, una sola sostanza in tutte le sue possibili incarnazioni quella di essere esternamente finiti ma infiniti al loro interno e quella di essere tutti ugualmente assurdamente pericolosi per gli abitanti del piano materiale i quattro piani elementali sono ovviamente quello dell'aria, dell'acqua, della terra e del fuoco qui hanno origine gli elementi che compongono il piano materiale e da qui provengono tutte quelle energie che fanno funzionare gli incantesimi della scuola di invocazione e che evocano palle di fuoco, muri di pietra e chi più ce ne ha ce ne metta dove le superfici esterne dei piani elementali si toccano tra di loro tecnicamente nelle zone di congiunzione planare si sono originati i quattro piani paraelementali anche loro internamente infiniti ma in questo caso formati da due elementi tra il piano nella terra e quello del fuoco c'è il piano paraelementale del magma tra terra e acqua c'è il piano paraelementale della melma tra acqua e aria c'è il piano nel ghiaccio e tra aria e fuoco c'è il piano paraelementale del fumo se i piani elementali ruotano attorno al piano materiale al di sopra e al di sotto ci sono i due piani energetici opposti tra loro come i poli in una batteria cioè il piano nell'energia positiva e il piano nell'energia negativa anche in questo caso è da qui che hanno origine le energie che governano molti incantesimi divini gli incantesimi di cura ed infliggi ferite quelli di resurrezione e quelli di creazione dei non morti il piano nell'energia positiva è la fornace ardente da cui ha origine tutto il moto la luce, il calore e la vita che irradia il piano materiale detta così sembra un piano incredibilmente positivo fin quando non ci si rende conto che andare nel piano in energia positiva è come assistere a un'esplosione termonacleare dal suo interno il suo opposto, il piano in energia negativa al contrario è l'entropia resa manifesta è un piano gelido avvolto nella perenne oscurità che assorbe tutta l'energia con cui entra in contatto ed è in grado di sbriciolare in polvere chiunque sia così pazzo da entrarci dove i piani energetici e i piani elementali si toccano hanno origine gli otto piani quasi elementali in cui le materie elementali reagiscono alle energie o alle assenze di energia dei due piani energetici il piano energetico positivo irradia i suoi confini di pura energia grezza dando origine al piano dei fulmini dove tocca il piano con l'aria quello del vapore al confine con l'acqua quello delle gemme in contatto con la terra e quello della radianza al confine con il fuoco questi ultimi due sembrerebbero relativamente ospitali se non fosse che sono entrambi assurdamente radioattivi il piano energetico negativo invece assorbe energie nelle zone di contatto planare originando i piani della polvere, del sale, del vuoto e della cenere rispettivamente dai piani della terra, dell'acqua, dell'aria e del fuoco i piani energetici e i piani elementali non sono direttamente collegati al piano materiale se non in alcuni punti specifici normalmente con conseguenze devastanti per quest'ultimo perché vuol dire lo scoppio di vulcani, esplosioni, scrosci d'acqua diciamo tutte quelle cose per cui normalmente gli avventurieri vengono chiamati a metterci una pezza e chiudere lo squarcio normalmente però il piano materiale e il suo piano delle ombre sono separati dagli altri piani interni da un piano connettivo, il piano etereo il piano etereo sul suo bordo interno coincide con il piano materiale esattamente come il piano delle ombre ma man mano che ci si allontana dal bordo interno il piano etereo diventa sempre più vago e indefinito fino a estendersi all'infinito nella zona in cui coincide con il piano materiale il piano etereo è talmente integrato in quello materiale che è possibile vedere il piano materiale direttamente senza lasciare il piano etereo anche se in maniera vaga e indistinta questa sua vicinanza permette come nel caso del piano delle ombre a molte creature e anche a molti incantatori di manipolare molto facilmente il piano etereo pensate alla capacità di passo abbondante del monaco a tutti gli incantesimi di teletrasporto che in realtà passano attraverso il piano etereo ma ci sono anche creature come i fantasmi che risiedono nel piano etereo ma hanno la capacità di spostarsi liberamente da un piano all'altro cosa che per esempio gli elementali che risiedono nei piani energetici per quanto siano vicini al piano materiale non possono fare per spostarsi immaterialmente sul piano materiale hanno bisogno di un incantesimo di portale che è di livello molto altro e quindi molto difficile da eseguire per incantatori man mano che ci si allontana però dal piano materiale come dicevo il piano etereo tende all'infinito diventando sempre più nebuloso e indistinto e fondamentalmente diventando a un certo punto una disfesa di nebbia opaca priva di gravità se si prosegue ancora in quello che viene chiamato il profondo etereo a un certo punto incontreremo delle minuscole bolle di realtà al suo interno assolutamente impenetrabili che sono tutti quei semipiani che vengono creati dagli incantatori del piano materiale e dei piani elementali per le più varie cose se vi siete mai domandati dove vanno a finire gli oggetti quando li mettete dentro la borsa conservante in una loro sfera di realtà a forma di borsa all'interno del profondo etereo anche questo è un ulteriore esempio di come essendo il piano etereo facile da manipolare per gli incantatori mortali e nelle sue profondità infinito e fondamentalmente vuoto ha perfettamente senso che gli incantatori mortali abbiano sviluppato incantesimi per manipolarlo e usarlo come free real estate ha perfettamente senso ed è un altro di quei modi in cui il war building giustifica il gioco vero e proprio che viene fatto al tavolo diciamo che questa è una descrizione molto semplificata e molto veloce dei piani interni ovviamente poi in ognuno dei piani interni ci sono altri strati altri sottopiani dove hanno i vari reami divini delle divinità elementali di vari signori planari protrusioni planari meccaniche specifiche di ogni singola ambientazione ma per discorso che dobbiamo fare questo basta e avanza credo che la morale della favola sia appunto quella di far vedere come molte delle meccaniche specifiche del gioco da dove arrivano gli incantesimi siano giustificate dal war building che è stato fatto per la cosmogonia di Dungeons & Dragons guardando il funzionamento della grande ruota risulta palese il perché alcuni incantesimi siano più facili altri più difficili di livello più alto o più basso e di perché i mortali abbiano molti più incantesimi alcuni tipi rispetto che altri in questo caso come abbiamo detto la fisica del mondo di gioco va a giustificare molti aspetti sia della narrazione che anche delle regole per questo video comunque è tutto adesso voi fatemi sapere nei commenti sotto se conoscevate la grande ruota se la usate nelle vostre ambientazioni se come me siete passati a Pathfinder ma continuate a usare la grande ruota i D&D invece della meccanica planale di Pathfinder se ne avete elaborata una vostra questa sarebbe interessante come cosa per il war building e magari sarebbe interessante anche per gli altri che leggono i commenti scrivete tutto ovviamente scrivete anche eventuali domande dubbi perplessità se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdere le notifiche io sono il Master Kai noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao